Con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, subito per chiedere un commento presidente dopo questo test contro il Napoli. Era un test sicuramente che non ci doveva dare nessuna indicazione dal punto di vista del risultato, anche perché giocavamo contro una delle squadre più forti che ci sono in Italia. Però ho visto, soprattutto nel primo tempo, dei bei movimenti da parte dei ragazzi. Quindi, chiaramente c'è un lavoro alle spalle che è stato fatto molto duro e oggi si è visto che molti erano un pochettino alle corde. Però penso che il lavoro poi alla fine paghi sempre e possa riuscire nei prossimi giorni. Preoccupato con la facilità con la quale il Napoli prendeva le spalle e la difesa andava uno contro uno con il portiere troppo forte il Napoli? E' un po' la caratteristica di Auteri? Anche se qualche gol era in fundubio fuori gioco? Credo, al di là di questo, che ha poca importanza, ma credo che ce ne siano stati tre di Collin fuori gioco. Però, a prescindere da questo, voglio dire, non era un test che ci doveva dare risposte da questo punto di vista. Giocavamo contro una squadra che ha un attaccante là davanti che in 30 metri te ne prende 40. In Serie C non so se ce ne siano tanti di questi attaccanti. Quindi ci sarà sicuramente da adeguarsi alla categoria, però è un test molto bene. Sicuramente una partita che ci dava anche un po' di lustro, perché comunque incontravamo il Napoli. Ma non è questa la partita che ci deve dare dei segnali su come stiamo andando. Parliamo di mercato. Cominciamo con il portiere. Per chi avete Di Gennaro, a me oggi Sorrentino è piaciuto tantissimo. E da notizie, da rumors di mercato, avete detto no alla controproposta del Craiova per Pigliacelli. È chiusura definitiva? Non è, abbiamo detto no. Noi abbiamo all'epoca, all'inizio della trattativa, abbiamo fatto un'offerta, abbiamo fatto un'offerta secondo le nostre tasche. È evidente che il Craiova ha altre aspettative e per noi si chiude qui. Non possiamo portare, anche perché abbiamo preso Di Gennaro. Come dicevi tu, io sono convinto di avere in casa un ragazzo che farà parlare di sé prossimamente, perché Sorrentino è un ottimo portiere. Quindi non vedo per quale motivo dobbiamo avere paura a far giocare anche dei ragazzi bravi, se sono bravi. Perché qui purtroppo in Italia ci giriamo dietro e guardiamo sempre quelli più vecchi. Però Sorrentino secondo me non ha nulla da invidiare a nessuno. Farà la sua strada e io sono contento di averlo nel gruppo. A proposito di giovani, Chiarella ha sorpreso tutti in questo secondo tempo? Tutti, ma non sicuramente me. Perché cercate un esterno se c'è Chiarella? Cerchiamo un esterno perché probabilmente qualcuno non sarà della partita, magari qualcuno andrà via e quindi si cerca un giocatore per sostituzione. Ma Chiarella è un giocatore, secondo me, se non lo bruciamo e lo facciamo crescere in tranquillità, è un giocatore che oggi ha fatto vedere delle grandi potenzialità. Chiudiamo proprio con il mercato, il fatto che abbia giocato Drudi a centrocampo fino al quarantesimo, solo cinque minuti per Valdifiori. Inseriamo anche Valdifiori con Galano, Bussellato e Di Grazia che andranno via? No, Valdifiori aveva avuto un problema in settimana e quindi il mister addirittura non voleva proprio farlo giocare. Poi alla fine gli ha chiesto come stava, il ragazzo si era preso sei o sette occhi, quindi ha voluto esserci. Bussellato, Galano e Di Grazia no? No, Di Grazia c'è un problema perché ha preso una botta ieri in allenamento ed era qui. Bussellato e Galano c'è un discorso a parte perché nella loro testa non c'è più Pescara, però a mio avviso credo che debbano essere professionisti e fare il loro lavoro. Poi se dovesse arrivare qualcosa per loro sicuramente ci guarderemo.